Il 2007 rappresenta un grande punto di svolta nella mia esistenza. Quell'anno, mio marito era costretto a letto perché aveva avuto un brutto incidente stradale. Avevamo due figli piccoli e non era un periodo facile per la mia famiglia. Mi trovavo in grande difficoltà e non avevo idea di come l'avremmo superato. Ho accolto l'opera di Dio Onipotente degli ultimi giorni. Dalle parole di Dio ho imparato che tutti noi dobbiamo a Lui la nostra vita. Che il nostro destino è nelle Sue mani. Già. Dobbiamo adorarlo e credere in Lui per avere un buon destino. Finalmente, avevo un punto di appoggio. Lode a Dio. Ho preso a frequentare regolarmente le riunioni, pregando e leggendo le parole di Dio con i miei figli. Dopo poco, ho ottenuto un compito. Meraviglioso! Mi hanno scelta come capo della Chiesa e ho ringraziato Dio per la Sua grazia. In me, pensavo, mi hanno eletta capo della Chiesa, anche se sono una neofita. A quanto pare, so cercare la verità. Devo svolgere il mio dovere con il massimo impegno. Così sarò certamente salvata. Questo pensiero ha davvero alimentato la mia motivazione. Per quasi tutto il tempo, predicavo il Vangelo, svolgendo il mio dovere. I miei cari si opponevano alla mia fede. I vicini mi denigravano e mi prendevano in giro. A quel punto, ho perso un po' di vigore. Eppure ciò non ha inficiato il mio dovere. Dopo, anche mio marito ha accolto l'opera di Dio degli ultimi giorni. Ero felice che facesse il suo dovere. Fantastico! Così ho pensato, ci basta svolgere il nostro dovere e sacrificarci per Dio, per poter ricevere le Sue benedizioni. In particolare, ho sentito i fratelli dire che avevo sofferto e pagato un prezzo e sarei stata salvata. Ero così felice e la mia voglia di servire Dio è aumentata. Una volta, nel 2012, ho trovato un nodulo al seno che mi faceva un po' male. Mi è venuto il timore che forse fosse qualcosa di grave. Ma poi ho pensato, non può essere. Svolgo il mio dovere ogni giorno. Dio non tratterebbe così chi si sacrifica realmente per Lui. Con la Sua protezione, nessun male mi colpirà. A quel pensiero, le mie ansie sono scomparse subito e ho proseguito nei miei compiti come prima. Nel 2013, il PCC ha inasprito la persecuzione verso i credenti. Io e mio marito eravamo conosciuti in zona per la diffusione del Vangelo ed eravamo sempre a rischio di arresto. Abbiamo lasciato la casa e ci siamo trasferiti lontano per portare avanti i nostri doveri. In seguito, ho scoperto che il nodulo stava crescendo e temevo si trattasse di una brutta malattia. Poi, però, ho pensato che in tanti anni non era mai successo nulla. Dio mi stava proteggendo. Purché mi attenessi al mio dovere, con tanti sacrifici, la Sua misericordia mi avrebbe evitato malattie gravi. Nel 2018, ho iniziato a sentirmi poco bene e mio marito mi ha portato a fare una visita. Secondo il medico, il nodulo che avevo al seno era diventato più grande di un uovo e non prometteva bene. Per lui sarebbe stato rischioso operare subito e ha detto che prima di un intervento avrei dovuto fare il lachemio per ridurlo. Le parole «non promette bene» e «chemioterapia» mi hanno gettato nel panico più assoluto. Ho pensato, solo i malati di cancro fanno la chemioterapia. Dunque, io ce l'ho. Vuol dire forse che morirò così giovane? Non riuscivo a crederci. A quel punto mi sono gettata su una panca nella corsia dell'ospedale. Ero in preda alle lacrime. Mio marito mi consolava. Come prima visita, magari è imprecisa. Domani faremo un secondo controllo in un altro ospedale. Il giorno dopo, in un'altra struttura, mi hanno sottoposta a biopsia. Il medico ha detto a mio marito che la situazione era grave. Poteva essere un cancro. Non c'era più tempo. Dovevano operarmi due giorni dopo. A quelle parole, le mie gambe hanno ceduto e il mio cuore si è congelato all'improvviso. Mi sono detta, «Davvero, è un cancro? Di questa malattia la gente muore? Già, come è potuto succedere a me?» Poi, però, ho pensato «Impossibile. Da quando sono credente, ho sempre svolto il mio dovere con sacrifici e sofferenze. Ho sopportato la derisione e le maldicenze, la persecuzione del PCC, eppure nulla mi ha fermata. Da dove viene questo male? Vuol dire che non ho speranza di essere salvata e di entrare nel regno dei cieli, no? Tutti i miei sacrifici di questi anni sono stati vani? Che sofferenza davvero indicibile! Quella notte continuavo a rigirarmi nel letto, incapace di prendere sonno. Non riuscivo a capire. Mi ero spesa così tanto. E ora avevo una malattia così grave. Perché Dio non mi aveva protetto? Poi ho pensato all'intervento di due giorni dopo. Chi sapeva se avrebbe avuto successo o meno? Era una vera e propria tortura. Così ho pregato Dio in silenzio. Amato Dio, mi sento così angosciata adesso. Non so come riuscirò a superare questa situazione. Ti prego, illuminami e guidami». Poi, nelle ultime undici richieste di Dio all'uomo, ho letto «Se sei sempre stato molto leale e amorevole nei miei confronti, eppure patisci il tormento della malattia, della povertà e l'abbandono dei tuoi amici e parenti, o se subisci altre disgrazie nella vita, la tua lealtà e il tuo amore per me continueranno a persistere. Se nulla di ciò che hai immaginato col cuore corrisponde a ciò che ho fatto, come percorrerai il tuo cammino futuro? Se non ricevi nulla di ciò che speravi di ricevere, continuerai ancora a essere un mio seguace? Meditando su tali parole, mi sono resa conto che in quel modo Dio mi stava mettendo alla prova per verificare se provavo reale fedeltà e amore per Lui. Ho ripensato alle prove affrontate da Giobbe. Perse avere figli e si riempì di piaghe su tutto il corpo. Anche se non capiva la volontà di Dio, preferì maledire se stesso piuttosto che incolparlo, esaltando il nome di Yahweh Dio. Giobbe mantenne la fede in Dio e fu obbediente, rendendo testimonianza davanti a Satana, mentre io, credente da anni, attingevo al sostentamento delle parole di Dio, senza capire affatto la Sua opera. Scoperta la mia malattia, pensavo che mi fossero negate la salvezza e le benedizioni del Regno Celeste. Ho frainteso Dio e L'ho incolpato. Siccome avevo fede da anni e mi ero sempre sacrificata, pensavo che Dio mi evitasse le malattie. Solo quando mi ha messa a nudo, ho visto che i miei sacrifici non erano per considerazione della Sua volontà, né per praticare la verità. Erano una compravendita per le benedizioni e per accedere al Suo regno. Tutto ciò che definivo lealtà e amore per Dio era solamente un inganno. Non era altro che falsità. Era proprio così, solo falsità. Avevo davvero ferito e deluso Dio. Ma poi ho letto le Sue parole. Chi tra tutti gli uomini non è accudito agli occhi dell'Onnipotente? Chi non vive nella predestinazione dell'Onnipotente? La vita e la morte dell'uomo sono frutto della Sua scelta personale? L'uomo è artefice del proprio destino. Molte persone invocano la morte, ma essa è lontana da loro. Molti vogliono essere forti nella vita e temono la morte, ma a loro insaputa il giorno della loro fine si avvicina, facendoli precipitare nell'abisso della morte. Molti uomini guardano verso il cielo e sospirano profondamente. Tanti piangono a dirotto singhiozzando. Molte persone falliscono nelle prove a cui sono sottoposte e molti diventano prigionieri della tentazione. Sebbene io non appaia personalmente per consentire agli uomini di contemplarmi in modo chiaro, tanti hanno paura di vedere il mio volto e temono profondamente che io li abbatta, che li uccida. L'uomo mi conosce veramente oppure no? Amén. Queste parole mi hanno mostrato che la carne e l'anima dell'uomo si originano da Dio. Già, certo. La vita e la morte sono nelle Sue mani. Noi non abbiamo voce in capitolo. Come esseri creati, dovremmo sottometterci alle Sue disposizioni. Compresa questa cosa, mi è passata la paura della morte. In cuor mio ho deciso di consegnare la mia vita a Dio e sottomettermi al Suo dominio qualunque fosse l'esito dell'intervento che avrei subito. Fantastico. Lode a Dio. Una volta che mi sono sottomessa, il mio cuore si è acquietato. Pregavo senza sosta mentre mi portavano in sala operatoria. Dopo, il medico ha detto che era andata molto bene. Ottimo. Ma che in ogni caso, il nodulo rimosso andava analizzato per sapere gli sviluppi successivi. Ho pensato, l'operazione è stata un successo perché Dio mi proteggeva. Sì. Ho visto altri pazienti che erano tornati dalla sala operatoria che si sentivano deboli e disorientati. Invece io stavo bene ed ero di ottimo umore. Gli altri nel reparto dicevano che non sembravo appena uscita da un intervento. Nel mio cuore, ne ero davvero grata a Dio. E ho anche pensato… Ho trovato quel nodulo al seno sei anni fa. Se si fosse trattato di un cancro, sarebbe peggiorato da un pezzo. Io non ho avuto alcun disturbo per tutto questo tempo. Dunque, forse non lo è. Anche in caso contrario, credo che Dio sia onnipotente e che sia in grado di rimediare. Avevo già sentito di alcuni fratelli che si affidavano a Dio durante le malattie più gravi ed erano stati testimoni dei Suoi prodigi. Avevo sempre fatto sacrifici per Lui. Di certo mi avrebbe protetta. Tre giorni dopo, piena di speranza, ho ritirato i risultati. Sono ripiombata nella disperazione. Era davvero cancro. Me ne stavo lì, seduta e immobile. Fissando la cartella, continuavo a rileggerla ancora e ancora, mentre piangevo senza sosta. Ci è voluto molto tempo prima che mi riprendessi. Tra me e me ho pensato, con questa malattia Dio vuole mettermi a nudo ed eliminarmi. Forse non sono neanche più degna di servirlo. Credo in Lui da anni. Mi sacrifico e predico il Vangelo in ogni situazione. Dio non ricorda tutto quello che ho fatto. Finirà così la mia fede in Dio? Ero sempre più sconvolta, completamente priva di energie. In seguito, ho smesso di mangiare e di bere, e persino di parlare. Il medico mi ha prescritto integratori e molto movimento. Mi sono detta, è davvero una condanna a morte. A che servono gli integratori alimentari e l'esercizio fisico? Tanto prima o poi andrò incontro alla morte. Mi sentivo molto depressa e mi ronzava in testa sempre lo stesso pensiero. Molti fratelli si erano ammalati prima di credere, ma poi sono migliorati dopo aver trovato la fede. Io invece, da quando credo, svolgo il mio dovere ogni giorno. Perché mi è capitato questo male? Per me, i sacrifici che ho compiuto erano una garanzia di salvezza. Adesso, non solo l'ho persa, ma per di più morirò di cancro. Tutto ad un colpo, ho riversato su Dio il mio rimprovero e fraintendimento. Nella disperazione, Gli ho anche parlato piangendo. E ho detto, Amato Dio, sto soffrendo così tanto. Mi sono ammalata e non riesco a capire quale sia la Tua volontà. Ti prego, illuminami e guidami per comprenderla. Allora, ho letto quanto segue. Per tutte le persone, l'affinamento è straziante ed è molto difficile da accettare, ma è durante questo processo che Dio rende palese la Sua giusta indole nei riguardi dell'uomo. Durante questo percorso, rende pubblici i Suoi requisiti per l'uomo. Durante questo processo, fornisce più rivelazioni, più potatura e trattamento effettivi. Attraverso il confronto tra i fatti e la verità, concede all'uomo una maggiore conoscenza di se stesso e della verità ed ha all'uomo una maggiore comprensione della Sua volontà, consentendogli così di sperimentare un amore per Dio più vero e più puro. Ecco gli obiettivi di Dio nell'esecuzione dell'affinamento. Amén. Tutta l'opera che Dio compie nell'uomo ha i propri scopi e ha il proprio senso. Dio non compie opere senza senso, non compie nessuna opera che sia priva di beneficio per l'uomo. L'affinamento non significa che l'uomo venga allontanato dal cospetto di Dio e nemmeno che Egli venga distrutto nell'inferno. Bensì significa il verificarsi durante l'affinamento di un cambiamento della Sua indole. Delle Sue motivazioni, dei Suoi vecchi punti di vista, del Suo amore per Dio e della Sua intera vita. Per l'uomo, l'affinamento è una vera prova e una forma di autentico addestramento. Solo durante l'affinamento, l'amore dell'uomo può svolgere la Sua funzione intrinseca. Amén. Lode a Dio. Le parole di Dio mi hanno aiutato a capire la Sua volontà. Egli stava usando la mia malattia per mettere a nudo la mia corruzione, ribellione e motivazione impura, in modo che potessi conoscermi e liberarmi da esse, ottenendo così la Sua salvezza. Sì, era l'amore di Dio. Esatto. Invece pensavo che Dio volesse togliermi la vita, che volesse eliminarmi. Perciò l'ho frainteso e incolpato. Mi sono arresa e mi sono disperata. Avevo tentato di dare un prezzo ai miei sacrifici, di prendermene il merito e di discutere con Dio. pensavo di usare la mia morte per oppormi a Lui. Non avevo più coscienza. Mi sentivo in debito con Dio. Così mi sono presentata in preghiera. Volevo scoprire perché durante la malattia non ero riuscita a sottomettermi e l'avevo frainteso e incolpato. Poi ho letto alcune Sue parole. Guardiamo il video. Va bene. Dio Onnipotente dice In così tanti credono in me solo perché li guarisca. In così tanti credono in me solo perché usi i miei poteri per scacciare gli spiriti impuri dai loro corpi. E in così tanti credono in me semplicemente per ricevere da me pace e gioia. In così tanti credono in me soltanto per chiedermi più ricchezze materiali. In così tanti credono in me soltanto per trascorrere questa vita in pace e per essere sani e salvi nel mondo che verrà. In così tanti credono in me per evitare le sofferenze dell'inferno e per ricevere le benedizioni del cielo. In così tanti credono in me solamente per un conforto temporaneo e non cercano di guadagnare alcunché nel mondo che verrà. Quando riversai la mia furia sull'uomo e gli sottrassi tutta la gioia e la pace che un tempo egli possedeva l'uomo divenne dubbioso. Quando diedi all'uomo la sofferenza dell'inferno e rivendicai le benedizioni del cielo la vergogna dell'uomo si mutò in rabbia. Quando l'uomo mi chiese di guarirlo io non gli diedi retta e provai avversione nei suoi confronti. L'uomo si allontanò da me per cercare invece la via della cattiva medicina e della stregoneria. Quando portai via tutto quello che l'uomo mi aveva richiesto tutti sparirono senza lasciare traccia. Di conseguenza dico che l'uomo ha fede in me perché io dono troppa grazia e c'è fin troppo da guadagnare. Persone siffatte hanno un unico semplice scopo nel seguire Dio quello di ottenere benedizioni. Persone siffatte non si prendono la briga di dare retta a qualsiasi altra cosa che non implichi direttamente questo fine. Per loro non vi è obiettivo più legittimo del credere in Dio per ottenere benedizioni anzi è il valore stesso della loro fede. Ciò che non contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo li lascia del tutto indifferenti. Questo è ciò che accade alla maggior parte di coloro che credono in Dio oggi. Il loro scopo e il loro intento sembrano legittimi perché credendo in Dio si adoperano per Lui si consacrano a Lui e svolgono il loro dovere. Rinunciano alla giovinezza abbandonano la famiglia e la carriera e addirittura trascorrono anni dandosi da fare lontano da casa. Per raggiungere il loro obiettivo finale modificano i loro interessi cambiano la loro visione della vita e persino la direzione in cui cercano eppure non riescono a mutare lo scopo della loro fede in Dio. Si danno da fare per gestire i propri ideali per quanto sia lontana la strada e per quanti ostacoli e difficoltà siano presenti lungo il cammino restano della loro idea e non temono la morte. Quale forza li induce a continuare a impegnarsi in questo modo? È la loro coscienza? È il loro carattere nobile ed eccellente? È la loro determinazione a combattere le forze del male sino alla fine? È la loro fede nel rendere testimonianza a Dio senza cercare alcuna ricompensa? È la loro lealtà nell'essere disposti a rinunciare a tutto pur di realizzare la volontà di Dio? Oppure è il loro spirito di devozione nel rinunciare sempre a eccessive pretese personali? Dare ancora così tanto per persone che non hanno mai compreso l'opera di gestione di Dio è semplicemente un miracolo. Per il momento non parliamo di quanto abbiano dato queste persone. Il loro comportamento tuttavia merita decisamente un'analisi. A parte i vantaggi strettamente associati a ciò potrebbero esserci altre ragioni per cui persone che non comprendono affatto Dio gli darebbero così tanto? In questo scopriamo un problema che precedentemente non avevamo identificato. Il rapporto dell'uomo con Dio si basa su un evidente interesse personale. È il rapporto tra chi riceve le benedizioni e chi le elargisce. Più semplicemente è simile al rapporto tra il dipendente e il datore di lavoro. Il dipendente lavora solamente per ricevere i compensi elargiti dal datore di lavoro. In un rapporto di questo genere non c'è affetto solamente un accordo non c'è dare e ricevere amore solamente carità e misericordia non c'è comprensione solamente sdegno represso e inganno non c'è confidenza solamente un abisso invalicabile. Ora che le cose sono arrivate a questo punto chi può invertire tale tendenza? E quante persone sono capaci di comprendere davvero quanto è diventato critico questo rapporto? Credo che quando le persone sono immerse nella gioia di essere benedette nessuno possa immaginare quanto sia penoso e sgradevole un tale rapporto con Dio. Amen. Amen. Le Sue parole mi hanno trafitta come un pugnale e ho provato tanta vergogna. Lo scopo della mia fede non era forse ottenere benedizioni future come diceva Dio. I miei apparenti sacrifici non contavano. Stavo solo patteggiando con Dio e tutto per le benedizioni. Non gli ero veramente obbediente né svolgevo il dovere di un essere creato. Nei primi anni di fede pensavo che avrei evitato ogni sventura che sarei stata benedetta e sarei entrata nel regno di Dio. Così mi sono spesa senza che nulla ostacolasse il mio dovere. Non avevo neanche tempo di portare o prendere i figli a scuola, le derisioni e la malignità degli altri, la persecuzione e gli arresti del partito. Niente inficciava il mio dovere. Tutto ciò mi convinceva che ero davvero fedele a Dio, che sicuramente mi avrebbe lodata e benedetta. Quando ho scoperto di avere quel brutto male, sentivo che era destinato a me, che il sogno di accedere al regno celeste era svanito. Ero piena di incomprensione, di biasimo e discutevo con Dio, arrivando a usare la mia morte per avversarlo. La realtà dei fatti mi ha mostrato che il dovere da me svolto, la sofferenza e il sacrificio erano solo per avere in cambio un buon esito. Il mio rapporto con Dio era il rapporto tra dipendente e datore di lavoro. Pretendevo ricompense per ogni piccolo prezzo pagato. Non lo amavo per davvero. Lo stavo usando, cercando di raggirarlo. Con tale prospettiva nella mia fede, Dio poteva solo detestarmi. Se non mi avesse aperto gli occhi con quella malattia, avrei continuato a impuntarmi sulle mie prospettive errate di fede. Dio mi avrebbe abbandonato e alla fine mi avrebbe eliminato. Sì, è vero. È vero. Infatti. Questa consapevolezza mi ha lasciato rimpianto e senso di colpa. Mi sono inginocchiata e ho pregato Dio. dicendo «Amato Dio, se Tu non mi avessi messa a nudo con questa malattia, non avrei mai potuto capire le mie idee sbagliate nella fede. Il giudizio e le rivelazioni delle Tue parole hanno risvegliato il mio spirito. Correggerò quelle motivazioni errate e rinuncerò alla brama di benedizioni. Che io guarisca o meno, che io viva o muoia. per me non conta nulla. Desidero sottomettermi a Te». Amén. L'odio a Dio. Dopo la preghiera, mi sono sentita molto più in pace, in uno stato migliore. Nei giorni seguenti ho fatto un movimento e ho preso gli integratori e la mia salute migliorava di giorno in giorno. Molto bene. In breve tempo, mi hanno dimessa dall'ospedale. Molto bene. Tornata a casa, mio marito e i ragazzi predicavano il Vangelo e facevano il loro dovere, ma io potevo solo rimanere stesa a letto, incapace di fare il mio dovere. Allora, ho iniziato ad avvilirmi un po'. Chissà quando mi sarei ristabilita del tutto o se un giorno sarei stata in grado di riprendere il mio dovere. Se non ce l'avessi fatta, non sarei stata un peso morto. Chi mi avrebbe più salvato? Ho capito che la mia brama di benedizioni aveva rialzato la testa. Affrettandomi a pregare Dio, ho letto queste Sue parole. Su quale base la gente era solita vivere? Tutti vivono per se stessi? Ognuno per sé e che gli altri si arrangino. Ecco il riassunto della natura umana. Le persone credono per interesse, abbandonano le cose, si spendono per Dio e sono fedeli a Lui, ma fanno questo nel loro interesse. In sintesi, tutto ha lo scopo di ottenere benedizioni. Nella società, tutto viene fatto per beneficio personale. Si crede in Dio solo per ottenere benedizioni. È per ottenere benedizioni che le persone rinunciano a tutto e riescono a sopportare grandi sofferenze. Queste sono tutte prove empiriche della natura corrotta dell'uomo. Amen! Queste parole mi hanno aiutato a capire cosa c'era dietro ai miei patti con Dio nella fede e perché mi ribellavo e gli resistevo se le cose non andavano come volevo. Era per tutti i veleni satanici che avevano il controllo del mio cuore, ognuno per sé e che gli altri si arrangino e non fate nulla senza un tornaconto. Vivevo così. Ogni mia azione era solo per me stessa, a mio beneficio. Ero così egoista e spregevole. Anche nella fede, mi facevo in quattro solo per ricevere benedizioni e ricompense. Non miravo alla verità né al cambiamento di indole. Quando non ho ricevuto le benedizioni desiderate, è esplosa la mia natura satanica. Ho equivocato e biasimato Dio, pentendomi di ciò che avevo fatto per Lui. Certo. Sì. Paolo lavorava per il Signore con grande pena, ma non aveva amore per la verità, né cercava di conoscere Dio o di cambiare la propria indole. Voleva solo la corona della giustizia in cambio di patimenti e sacrifici. Alla fine, la Sua indole satanica non era cambiata. Nella Sua dissennata arroganza, testimoniava di essere Lui stesso Cristo, portando le persone dinanzi a sé. Ciò ha offeso l'indole di Dio, valendogli la punizione eterna. Giusto. Continuando a vivere secondo i veleni di Satana, avrei fatto la stessa fine di Paolo. Dio mi avrebbe punita per la resistenza che gli mostravo. Sì. Ho capito quanto fosse pericoloso cercare benedizioni invece della verità. Amén. Ecco, sei ragione. È vero. Verissimo. Ero così grata a Dio. L'ho ringraziato per avermi fatto riflettere su me stessa tramite questa malattia. Era chiaro che quanto avevo ricercato nella mia fede era irrato e che avevo imboccato un cammino di opposizione a Dio. Poi ho letto quanto segue. Dio è eternamente supremo e sempre onorabile, mentre l'uomo è eternamente spregevole e indegno. Questo perché Dio non fa che sacrificarsi e dedicarsi all'umanità. L'uomo, invece, non fa che accumulare e adoperarsi solo per sé stesso. Dio non fa che prodigarsi per la sopravvivenza dell'umanità. Eppure l'uomo non apporta mai alcun contributo alla luce o alla giustizia. Anche se si adopera per breve tempo, non resisterà a un solo colpo. perché viene compiuto sempre per il suo tornaconto e mai per gli altri. L'uomo è sempre egoista, mentre Dio è eternamente altruista. Dio è la fonte di tutto ciò che è giusto, buono e bello, mentre l'uomo è colui che subentra a tutto ciò che è brutto e malvagio e lo rende manifesto. Dio non cambierà mai la Sua essenza di giustizia e di bellezza. Eppure l'uomo è capace in qualsiasi momento di tradire la giustizia e allontanarsi da Dio. Amen. Amen. Mentre meditavo su queste parole, mi sono commossa. Dio ha pagato a caro prezzo la salvezza del genere umano così profondamente corrotto da Satana. Due mila anni fa, Egli per la prima volta si fece carne in Giudea per redimere l'uomo, sopportò derisione e calunnia, la persecuzione e i maltrattamenti dei giudei. Infine, fu inchiodato sulla croce, compiendo così l'opera di redenzione. Oggi, Dio si è fatto carne per la seconda volta in Cina per purificare e salvare l'umanità una volta per tutte, cacciato e perseguitato dal Partito Comunista. Non ha un posto per poggiare la testa, per riposare. Deve anche sopportare il fraintendimento, il biasimo e la disobbedienza di noi credenti. Eppure, Dio non ha mai smesso di tentare di salvare l'umanità. Anzi, si dà da fare per noi in silenzio e non ci chiede nulla in cambio. E io, allora, in cambio dei sacrifici nel mio dovere, mi aspettavo benedizioni e buon esito. Contro la mia coscienza, ho commerciato con Dio. Che egoismo, che meschinità! Non ero una vera credente. con questa consapevolezza, ho pregato dinanzi a Dio, disposta a pentirmi. Amén. Lode a Dio! Lode a Dio! Durante i devozionali, nelle parole di Dio, ho letto la vera fede in Dio significa quanto segue. Sulla base della convinzione che Gli ha, la sovranità su tutte le cose, si sperimentano le Sue parole e la Sua opera. Si purifica la propria indole corrotta, si soddisfa la volontà di Dio e si arriva a conoscerlo. Solo tale percorso può essere definito fede in Dio. Lo scopo di credere in Dio e soddisfarlo è vivere l'indole che Egli richiede in modo che le Sue azioni e la Sua gloria possano manifestarsi tramite questo gruppo di individui indegni. Questa è la giusta prospettiva per credere in Dio e anche l'obiettivo che dovresti perseguire. Dovresti avere la giusta prospettiva e cercare di ottenere le Sue parole. Dovresti leggere le parole di Dio, vivere la verità e inoltre vedere i Suoi atti concreti, i Suoi meravigliosi atti nella totalità dell'universo, nonché l'opera concreta che Egli compie nella carne. Attraverso le esperienze pratiche, gli uomini possono capire proprio come Dio svolge la Sua opera su di loro e qual è la Sua volontà nei loro riguardi. Lo scopo di tutto questo è eliminare la loro corrotta indole satanica, dopo esserti liberato di quanto disudicio e immorale in te e dopo esserti spogliato delle intenzioni sbagliate e dopo aver sviluppato una fede autentica in Dio, solo con una fede autentica puoi amare Dio davvero. Amén. Queste parole mostrano il giusto obiettivo da perseguire nella nostra fede. in qualsiasi modo si venga disciplinati nelle proprie esperienze, Dio organizza tutto apposta per purificarci e cambiarci. Amén. Dovevo affrontare queste cose di buon grado con obbedienza, cercare la verità nelle situazioni per eliminare la mia indole corrotta, compiacendo Dio e ripagando il Suo amore in ogni cosa. Solo questa è una ricerca corretta. Amén. Non volevo più fare patti con Lui per le benedizioni. Comunque si fosse evoluta la malattia, ho deciso che avrei adorato Dio fino all'ultimo respiro. L'ho dato Dio. Se Dio mi avesse dato un'altra possibilità di svolgere il mio dovere, non avrei contrattato con Lui per le benedizioni. Volevo solamente ricercare la verità e un cambiamento di indole. Poco tempo dopo, Dio mi ha messo alla prova. Mia figlia, dopo una riunione della chiesa, ha detto che sorella Wang che irrigava i credenti era seguita dalla polizia e non avevano ancora trovato nessuno per sostituirla. Mi ha chiesto chi fosse adatto tra i fratelli. Avevo già svolto quel compito in precedenza e lo conoscevo bene. Così mi ritenevo la più indicata. Poi, però, ho pensato all'operazione subita una ventina di giorni prima. L'incisione non era del tutto guarita e fuori era sempre più caldo. A casa dovevo lavare la ferita più volte al giorno. Quindi, se avessi accettato quel compito e fossi stata troppo indaffarata per tenerla pulita, avrebbe potuto infiammarsi. Il mio braccio era ancora debole e tutti quegli andirivieni sullo scooter avrebbero rallentato la guarigione. Così, avrei peggiorato le cose. Data la situazione, assumere quel compito non avrebbe giovato alla mia salute. Poi, però, ho pensato che non si era ancora trovata alla persona adatta. Se non ci avessi pensato io, il lavoro della casa di Dio sarebbe stato frenato. cosa dovevo fare? Mi è venuto in mente un passo dalle parole di Dio. Nella tua fede in Dio e nella tua ricerca della verità, se sei in grado di dire, anche se Dio permette che una malattia mi colpisca o che mi capiti una qualunque avversità, qualunque cosa Egli faccia o in qualsiasi modo Egli operi, io devo obbedire e rimanere al mio posto di essere creato. Prima di ogni altra cosa, devo mettere in pratica questo aspetto della verità, attuarlo e vivere la realtà dell'obbedienza a Dio. Inoltre, non devo affatto accantonare ciò che Dio mi ha incaricato di fare e il dovere e il dovere che sono tenuta a svolgere. Anche se mi rimanesse un solo ultimo respiro, devo attenermi al mio dovere in maniera adeguata. Non significa forse rendere testimonianza? Amén. Ne ho ricavato un percorso di pratica. Anche se la mia incisione non era ancora del tutto guarita, era ora di rinunciare a egoismo e meschinità. La casa di Dio contava più di me stessa. Sì. Per anni avevo lavorato per ricevere benedizioni commerciando con Lui. Non mi ero mai curata della Sua volontà, ne avevo mai fatto nulla per soddisfarlo. Gli dovevo così tanto. Serviva subito qualcuno che svolgesse il compito e io volevo farlo. Non importava più la mia condizione fisica. Chiedevo solamente di potergli recare conforto. L'Odia a Dio! Guidata dalle Sue parole, non mi sono fatta limitare dalla malattia e mi sono offerta volontaria. Dando tutta me stessa per il compito, ho toccato con mano la prodigiosa protezione di Dio. Una settimana dopo, l'incisione non solo non era peggiorata, ma era guarita completamente. Sì. L'Odia a Dio. È fantastico. Che prodigio incredibile. Davvero. Il medico ha detto dopo questi interventi, i linfedemi al braccio sono comuni. Dopo oltre un mese di convalescenza, serve un'altra chemioterapia. Però, da quando mi occupavo di quel compito, la ferita non mi doleva più. Sul mio braccio non c'erano linfedemi e non ho avuto bisogno della chemio. Dopo che è passato più di un anno dall'operazione, adesso sto benissimo. L'Odia a Dio! Ringrazio Dio per i Suoi atti meravigliosi. Ho sperimentato di persona queste Sue parole. Tutte le cose, siano esse vive oppure morte, si muoveranno, muteranno, si rinnoveranno e scompariranno secondo i Suoi pensieri. Questo è il modo in cui Egli sovrintende a tutte le cose. Amen! L'Odia a Dio! Abbandonate le mie richieste eccessive e le compravendite con Dio. Ho visto davvero la Sua autorità e il Suo dominio. Sono stata testimone dei Suoi atti mirabili. L'avvenuta di questa malattia sembrava una sventura, ma in essa si celava l'amore di Dio. L'illuminazione e la guida delle Sue parole mi hanno palesato la mia brama di benedizione e le mie impurità. Sono diventata più obbediente a Dio. Ho imparato davvero che questa esperienza era una benedizione di Dio allo scopo di purificarmi e cambiarmi. Amen! Ringrazio Dio per la Sua salvezza. Che bellissima testimonianza! Amén! Lodi a Dio! Grazie! Grazie!